Lo sapevi che ci sono più di 10.000 specie di piante che riescono a vivere in abita d'alpini? Ma sono tutte piante a cuscinetto come questa qui? Non necessariamente. Nell'arco alpino si trovano anche forme di crescita a rosetta e arbustinani. In generale tendono a sviluppare stesi sistemi radicali, molto grandi, se paragonati alla piccola piantina che spunta fuori dal suolo. Ma sono le condizioni alpine a non permettergli di crescere di più? Sicuramente fattori come il vento o le basse temperature limitano in modo diretto la loro crescita. Infatti, gli alberi che crescono alla timberline, il limite massimo che gli alberi riescono a raggiungere, tendono ad essere piccoli e rachitici. D'altro canto, l'evoluzione ha portato a forme di crescita che riescono a creare un microclima favorevole alla loro vita. Infatti, le piante a cuscinetto, che crescono ad elevate altitudini, stando così a stretto contatto col suolo, riescono a beneficiare di alte temperature. E continuano a crescere allo stesso modo anche se vengono portate ad altitudini inferiori, come qui nel giardino botanico, dove usufruiscono delle migliori cure possibili. E di un'estate parecchio lunga, tra l'altro. Infatti, le piante che crescono in montagna devono adattarsi ad una stagione vegetativa estremamente corta. Si possono facilmente trovare sia piante, che necessitano solo di un paio di settimane per sviluppare i semi, sia piante vivipore, con le piantine figlie che crescono direttamente dalla pianta madre.